Oggi vedremo le prime tavole che riguardano il mese di marzo e sono tavole che danno l'idea dell'inizio della primavera, il passaggio, come dicevamo le altre volte, tra il freddo e le prime avvisaglie di primavera e di belle giornate. Cominciamo con questa prima tavola intitolata Boschetto. Ecco qui siamo ancora in una tavola tecnicamente interessante, realizzata anche per la dimensione, realizzata completamente a pastello a cera. Pastello a cera è molto lavorato. È una tavola che rappresenta un bosco, un bosco fitto, abbastanza grande, dove c'è ancora la presenza della frescura, così se vogliamo chiamarla, o del freddo invernale. Gli alberi sono abbastanza spogli, svettano verso l'alto mostrando la loro struttura e l'assenza di vegetazione. L'aria fredda viene rappresentata da questi colori freddi violaci nella parte bassa dell'orizzonte. È una tavola molto lavorata, ma tutta grafica, tutta a pastello a cera, con un fondo di gesso colorato. Continuiamo e vediamo questa prossima tavola intitolata Boschetto al tramonto. Qui abbiamo la stessa immagine precedente, cioè vista da un'altra apertura, cioè nella parte dove il bosco aveva una via di accesso, e qui il bosco al tramonto è sì presente nella dimensione ancora invernale, in quanto non ha la vegetazione, ci sono le strutture dei rami e dei tronchi, ma è il fuoco del tramonto invernale primaverile, così che possiamo definirlo, che incendia tutta l'atmosfera. La tecnica pittorica è veramente interessante anche qua perché su un fondo di gesso è stato poi operato un intervento tutto a pastello olio, molto duro perciò il pastello olio ad attaccare sul gesso. Una lavorazione decisa e incisa che poi è stata completata e fissata, questa parte gessosa e di cera, con un'acquarellata acrilica molto densa, molto acquosa, che dà questa atmosfera di cielo infuocato verso il tramonto. Continuiamo e vediamo questa tavola. Campi di riso dopo tre settimane dalla semina, fine di marzo, qui siamo già a metà marzo, campo di riso dopo tre settimane dalla semina, cioè siamo già a metà marzo, abbiamo un campo che è stato seminato presto, in quanto l'acqua è stata portata prima. La vegetazione, vedete, è già molto vistosa, abbiamo dei verdi molto luminosi e qui si ha già una prima impressione di colori tendenti, se così possiamo dire, alla primavera. Più caldo, meno freddo. Ecco qua, abbiamo un'altra tavola, paesaggio contrattore. Ecco qui, una tavola che riprende forse delle tavole che abbiamo già visto in passato, praticamente è realizzata tutta a pastello a cera. Abbiamo un trattore che passa, un trattore blu, che fa le sue errature su un terreno molto pastoso, molto lavorato tra gesso, pastello a cera, pastello a olio e carbone pressato. Sul fondo si stagliano l'impianto di biogas e un piccolo paese, il cielo molto mosso, molto ventoso, perché nel mese di marzo e soprattutto in questo periodo, al passaggio della primavera, ci sono dei forti venti su tutta la pianura che caratterizzano l'atmosfera della natura. Ecco, è una bellissima tavola, direi molto espressionista, quasi espressiva, in quanto è tutto molto marcato, molto molto deciso. Ecco, qui abbiamo risaie con cascina a inverno. Qui siamo già nel mese di marzo inoltrato, i campi sono già stati allagati alcuni, abbiamo questa presenza dell'acqua nei campi immensi di riso e perciò c'è questo misto tra alghe, cioè il riso che sembra quasi un'alga all'inizio, immerso nell'acqua, i bordi che segnano i perimetri delle zone riempite d'acqua, perciò sono dei bordi rialzati di terra, altri campi che vegetano molto bene con il verde molto vistoso e questo cielo con un vento primaverile rinfrescava il celluleo del cielo e si compenetrava, si rifletteva nell'acqua della risaia. E c'è sul bordo, vedete questo tetto di una grande cascina che era in lontananza, perciò qui tutto diventa un acquarello molto poetico, molto molto pittorico e molto ben riuscito in quanto c'è proprio una lavorazione continua con passaggi di colore che evapora, poi viene ripreso, viene ricaricato. Qui ci sono i profili di alberi molto grandi, lo stacco dell'orizzonte, le nuvole, è una bellissima tavola pittorica questa. Vediamo altre tavole di questo genere, sempre fatte in questo periodo di marzo, questo è un bosco a villanterio, ecco vedete qui abbiamo una realizzazione dove in primo piano c'è un enorme campo di riso già con una vegetazione molto viva, molto molto fosforescente quasi all'inizio sembra il riso, questo verde forte, poi c'è la parte alta dell'orizzonte del cielo dominato da questo bosco, questo grande bosco, un bosco abbastanza fitto dove la vegetazione ha già riempito il rapporto orizzonte cielo. Il cielo era un cielo tendente al temporale molto scuro con delle nuvoloni e del vento molto forte. A primavera c'è queste caratteristiche molto diverse che danno proprio questa forza della natura. Qui abbiamo un'altra composizione risaie con bosco a inverso il paese d'inverno. È una tavola stupenda questa, tecnicamente io parlo pittoricamente c'è la parte bassa del campo di riso dove il riso è immerso nell'acqua come fossero delle alghe, perciò il verde è ripreso con tanti passaggi di macchie di acqua che poi sono stati lasciati evaporare per creare delle sfumature, poi ricaricato nelle parti più scure, perciò una parte di riso, di campo di riso che fa la parte bassa, un orizzonte e uno stacco di una bellissima boscaglia che tagliava l'orizzonte e il campo di riso dal cielo con questa grande boscaglia vegetativa e grandi salici verdi pieni di vegetazione tutta mossa da un vento molto forte a primavera e il cielo che ha questo movimento di nuvole. Questa tavola pittoricamente è veramente riuscita e molto bella tecnicamente. Prendiamo altre tavole di questo periodo, abbiamo questo cavo marocco a villanterio, cavo marocco a villanterio è un'altra tavola stupenda da un punto di vista pittorico perché c'è una leggerezza che esprime proprio la composizione lirica della primavera. Ci sono uno, due, tre gradazioni di verdi con tre campi a diversi livelli, un profondo cavo che portava l'acqua, un canale, l'argine, lo stacco con l'orizzonte con una grande pianta e un'altra pianta sull'orizzonte e delle boscaglie più basse sull'orizzonte e un cielo molto mosso, molto mosso dal vento, dal vento che dà queste impressioni di primavera che sta già rinforzando tutta la natura. Questa tavola è bellissima tecnicamente, pittoricamente, perché ci sono delle realtà pittoriche che a volte sono molto riuscite e altre molto meno. Qui abbiamo nella natura l'amore di Dio, una variante, perché dopo quella tavola che abbiamo visto ci sono dei momenti di forte intimità, facciamo un parallelo per dare l'idea del contenuto, di fronte alla potenza di Dio, alla bellezza di Dio nella natura, che noi abbiamo qua un'immagine di gioia della creazione, abbiamo un'altra contemplazione che è questa sotto, una contemplazione, come ho detto nel titolo, nella natura dell'amore di Dio, cioè in questa natura, ecco questo fondo terroso, oro bronzato lo chiamerei, è un oro bronzato dove questa terra ha come fecondazione il sangue di Cristo inteso come questa macchia rossa che ricorda il sole, che ricorda il fuoco, ricorda il sangue in questa grande macchia bianca, questa specie di croce che si forma, è l'idea di questa natura, questa parte ocra o bronzo, dove l'amore di Dio feconda la realtà naturale per dare la vita anche nella natura, come è successo per Gesù Cristo, per l'umanità. Perciò una composizione, un'opera, un quadro, molto bello a mio parere, che concentra in modo poetico il tema dell'incarnazione, il tema dell'amore di Dio che dona il figlio per l'umanità. Qui rappresenta l'amore di Dio in questo sangue che feconda, in questo rosso che può essere un sole, che può essere un sole in mezzo alle nuvole, un grande spazio di terra, cioè tutta una serie di pensieri contemplativi, di preghiere davanti alla bellezza della natura. Perciò una visione, chiamiamola pure lirico, informale, mistica, una visione lirico, mistica, figurativa, naturalistica. Sono termini che cercano di spiegare in modo semplice il contenuto profondo della forza poetica dell'opera d'arte dell'espressione artistica. Ecco, bosco alla sera, contemporane. Ecco, qui, per esempio, abbiamo una continuità dopo la visione lirica, dopo la visione mistica di preghiera come atto di contrizione, di amore perfetto in cui l'uomo riconosce la grandezza di Dio e la piccolezza sua davanti all'amore di Dio. Qui abbiamo una contemplazione ancora estatica di un immenso bosco, composto da enormi alberi, questi enormi alberi che si intersecavano nella loro grandezza vegetativa con un fogliame veramente ricco di foglie verdi, perché siamo ormai a una primavera verso la fine di marzo o inizio aprile e il verde domina anche il grande campo di riso che ha già vegetato. Su questo si intravede l'orizzonte attraverso i tronchi degli alberi, dopo la massa vegetativa, il cielo che ritorna come grandezza. Perciò bosco contemporale, perché questo cielo è scuro, perché proprio, e anche queste foglie si muovono vigorose, perché era in arrivo un temporale. Quando arrivano questi temporaloni di primavera fanno quasi paura, perché d'improvviso cambia proprio l'atmosfera, cambiano i colori, cambiano le ombre, cambiano le luci. Veramente stupendo sia il risultato pittorico che l'emozione che si coglie quando si fanno queste uscite. Ecco qua, risaie all'ara nera, sempre questa zona periferica, diciamo è una frazione della provincia pavese delle risaie. Questo è realizzato tutto a pastello olio, tranne il cielo che ha sopra il pastello olio un intervento di acquarello acrilico. E qui c'è la presenza di queste risaie, un campo, un secondo campo, il profilo del paese, degli alberi, che presentano come disegno a pastello questa forma vegetativa del riso che sta crescendo. Continuiamo questa sequenza con marzo, paesaggio, paesaggio, paesaggio serale, paesaggio di tramonto. Questa è una tavola pittoricamente stupenda, bellissima, dove ci sono tantissimi passaggi, prima il disegno in pressato nero, poi del disegno col gessetto, poi il gessetto largo, poi il gessetto piccolo, poi cera, pastello olio, pastello a cera, poi ancora acrilico, poi ancora acquarello, per completare alla fine con una stesura di vernice che dà questa amalgamazione delle varie tecniche che si sovrappongono creando un certo spessore e un respiro tra i passaggi dei colori che acquistano un'intensità maggiore. Abbiamo un primo campo, un secondo campo arato, degli alberi in cui si intravede la luce del tramonto che passa, un cielo che va verso il tramonto e che fa sentire la sua aria, il suo vento, anche nella luce che si scioglie quasi nel senso dei campi pieni di acqua. Un risultato pittorico veramente bello, questo tra i migliori e anche da un punto di vista visivo. Qui c'è figura, astrazione, contemplazione, poesia, tecnica, molto molto riuscito questo lavoro. Vediamo poi altre tavole. Boschetto a inizio marzo, qui abbiamo invece una contemplazione che ritorna su una tavola di inizio marzo dove c'è l'apparire della vegetazione ma il risultato è ancora freddo, c'è il campo preparato ma secco dell'inverno, una fascia centrale verde di vegetazione di un campo un pochino più avanzato come vegetazione e dei leggerissimi, segnati tutti con il carbone pressato, alberi che fanno una barriera di bosco nei quali si forma la vegetazione e poi allo stacco di cielo, un cielo di tramonto ma ancora con la presenza dell'inverno, abbiamo questo rosso mattone che domina. Il risultato è anche questa, una bellissima tavola ma tendente un po' al risultato informale dove la materia della terra, della terrosità, ha la dominanza sul messaggio visivo. Anche qui è molto bello questo poter passare con la tecnica pittorica con emotività di fronte all'immagine naturale da una espressione all'altra. Questo qua è un albero su un canale a metà marzo, anche questo è un bellissimo lavoro pittorico molto lavorato con passaggi di gera, gessetto olio, pastello olio, acrilico, pastello, acrilico ancora, vernice che dà una certa consistenza al foglio e perciò alla fine si riesce a avere quasi come una struttura quasi astratta dove l'albero si fonde con le radici nel terreno, dal terreno si mescola al cielo, tutto con una corposità terrosa molto marcata anche nel cielo perché abbiamo un ceruleo con presente locra. Anche qui poeticamente un ottimo risultato. E per finire questa serie abbiamo sempre questo albero precedentemente visto, paesaggio con albero ma in una versione ancora con la presenza dell'inverno. Qui c'è la struttura forte dell'albero corposo, il tronco molto vigoroso, nero, con una vegetazione che comincia a apparire, vedete questo verde che viene aggiunto poi in modo acrilico, acquoso, e si mescola questa idea dove abbiamo i campi intorno con l'acqua che fa crescere la vegetazione, ma gli alberi che hanno nella loro forza ancora la versione invernale dove la vegetazione è ancora ferma. Allora, con questo chiudiamo questa serie di altre tavole che presentano l'avvicinarsi completo della primavera nel mese di marzo-aprile. Qui siamo ancora nel mese di marzo dove comincia la vegetazione a far sentire la sua forza e perciò c'è una maggior vigoria da parte del pittore a livello emotivo di partecipare a questa crescita emotiva e naturale della natura che si sta riformando, che si sta rigenerando e anche l'artista trova un'energia nuova per affrontare con le solite tecniche tradizionali questi impatti visivi ed emotivi con l'opera pittorica e con il risultato pittorico finale. Vedremo poi altre tavole molto interessanti, ancora maggiormente interessanti perché più ci avviciniamo all'aumento dell'acqua nelle risaie, più abbiamo degli effetti veramente fantasiosi, visionari, emotivi, nuovi, molto ricchi di colore in quanto poi la stagione con la primavera e l'estate si carica di colori e di atmosfere con cambiamenti improvvisi di temporali e piogge e tutto questo serve a aumentare la forza emotiva, la forza creativa del pittore immerso nella natura. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.